Pronto chi è letta si ho capito però chi sei Gianni Enrico Enrico tu sei no mi stavo facendo una mezz'oretta di che il ministro è fatto ma è bravo bravo vuoi dire qualche nome Alfano Alfano e me non sei tu chiedi è uno scherzo chi sei Michele delle bombe tu sei ma è di vabbè e di gli altri nomi la di Girolamo quella cozzana la mo' di boccia e mo' che deve andare lui deve rimanere a casa per ripiare dai no dai chi sei uno scherzo non sei Enrico Letta vabbè un altro nome un altro nome Lupe quello la no non è possibile il bambolotto della Barbie Lupe quello la del PDR no vabbè non sei tu non ci credo non ci credo un altro nome un altro nome Quagliarello ah no vabbè uno scherzo dai chi siete i ragazzi dello stadio che siete a fare uno scherzo a quest'ora a me no Quagliarello quello la quel rimasca non capisce niente no vabbè garanto la costituzione a quel no ma è uno scherzo dite chi è che voglio dormire un altro nome Brahi quello la del Cd da l'anno della Taranta molto per cominciare a rompere i coglioni tutti quanti con la pesca pure nel forno no dai non ci credo non posso credere a questi nomi che capa scusa allora avete fatto pure a Franceschini veramente dai uno scherzo dai no di Sabino tu Sabino veda questo scherzo stanno facendo è tutto vero veramente